Che cos'è? Dov'è lo specchio? Dove sono finito? Benvenuto, cerciatore. Vuoi delle risposte? Sono qui per aiutarti. Che... che cosa è stato? Oh, merda. Devono averlo bruciato vivo. Strumenti di tortura. Questa è roba medievale. Questa è roba medievale. Che cos'è 40 ore, ora ti sono diventi. No, il tutto. È un problema. Un po' di più? Un po' di più? serve una manovella per girarla no Forse posso usare questa. Perfetto. No! 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 Ehi! C'è qualcuno? Ti prego! Lo so che ci sei! Cosa? Un momento! No! Sono ancora qui! Non è stato un incubo! Ehi! C'è qualcuno? Ti prego! Lo so che ci sei! Farò tutto il tuo che vuoi! Ti prego! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciamiasser! Lasciami andare! Lasigami! Lasciami andare! Lasciami andare! Devляется lapetta e anxiety! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare... Let's go! Lasciami andare! Grazie a tutti. 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 Non puoi cambiare la pressa, puoi solo agcioccerlo. Affruttalo, non evitare. Quella è... Lily. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una spina che hai reso, per questo sarai ricompensa. Stefano... Questo tizio lo conosce. Grazie a tutti. 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 Sebastian Castellanos. Grazie a tutti. 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 l'hai fatto. È così che affronti ogni sfida nella tua vita, con la forza bruta e l'intimidazione. E guarda cosa ti hanno portato. A un inferno che tu stesso hai creato. Abbassa quell'arma. Usa il cervello invece dei pugni per una volta. Abbiamo lo stesso scopo, Sebastian. Possiamo aiutarci l'un l'altro. Unisciti a me. Tu riuscirai a trovare tua figlia. E io otterrò il potere del nucleo. So già chi ha preso Lily. Sì. E Maira non si arrenderà facilmente. Cosa? Dove sono? Vorrei potertelo dire. Ma non sei ancora brutto. Devi prima di tutto unirti al mio grigio, perché io possa dirti ciò che vuoi. Ti ho detto che devi dirmi dov'è! Accetta il mio invito. Posso mostrarti la via per uscire dall'oscurità. Io posso portarti da Lily. Scusa. Non sono un tuo seguace. Allora così sia. C'è molto dolore. I fantasmi del passato ti stanno perseguitando. Ti ho mostrato la via, Sebastian. Devi sapere che sono qui per aiutarti. Torna da me volontariamente. Dopodiché assumeremo il ruolo che ci spetta. Non di avversari, ma di alleati. Arrivederci per ora, Sebastian. Aspetta! Guarda chi si è svegliato. Era ora. Mi servirebbe un po' d'aiuto. Sai usare una pistola, vero? Copri quel lato. Spara finché non li hai uccisi o non finisci le munizioni.